Salve a tutti carissimi cinefile, carissime cinefile, ben ritrovati in questo nuovo video. Dunque, oggi voglio parlarvi di un film islandese, svedese, polacco, uscito nelle sale nel 2021. In Italia è arrivato quest'anno, il 31 marzo scorso, quindi perdonatemi se questo video arriva con un certo ritardo, ma si sa che il mio canale ha dei tempi elefantiaci. Dicevo, il film è intitolato Lamb, ed è l'opera d'esordio del regista islandese Valdimar Johansson. Prima di cominciare mi sento di ringraziare innanzitutto Wanted Cinema, che ha distribuito il film in Italia, e soprattutto voglio ringraziare il buon Francesco Dimento, di Parole e dintorni, che tempo addietro mi ha contattato chiedendomi se ero disposto a parlare del film, e mi ha fornito lui la possibilità di vedere questa pellicola, perché il cinema più vicino a dove sto io, che proiettava il film in sala, si trova a tipo 100 km di distanza, quindi non avevo modo di andare a vedere il titolo in questione. Il buon Francesco mi ha potuto fornire il link per vedere legalmente il film, e quindi grazie a lui se è possibile oggi per me parlarvi di Lamb e realizzare appunto questo video. Quindi grazie mille Francesco per questa possibilità che mi hai dato e ci hai dato. Detto questo, ulteriore permessa, come al solito, siete avvertiti, farò spoiler, quindi se ancora non avete visto il film in questione e non volete sapere nulla in anticipo, tornate in un secondo momento. Comunque vi consiglio tantissimo di recuperare questo titolo, cioè Lamb, perché secondo me il film merita, è un esordio molto buono, se lo potete recuperare in sala sono sicuro che meriterà tantissimo la visione sul grande schermo, perché tecnicamente io penso che questo film sia stato confezionato alla stragrande, certe riprese che ci sono per i paesaggi, per la fotografia, per la grande pulizia proprio delle riprese, per le immagini che sono ben costruite, per la regia, che secondo me è molto ispirata. Insomma, il film merita assolutamente di essere visto sul grande schermo, se lo potete recuperare lì, altrimenti, in altra maniera, poi quando uscirà il Blu-ray, il DVD, insomma, acquistiamo, sosteniamo questo film, perché secondo me è un'opera davvero notevole. Allora, Lamb, dunque, film, come avevo detto, d'esordio del regista Johansson, il quale è anche co-sceneggiatore del film, l'altro sceneggiatore è Sigurjon Sigursson, spero di averlo pronunciato bene, perché, insomma, i nomi islandesi non sono proprio semplicissimi, è uno scrittore che è noto con lo pseudonimo di Sean, e lui è un paroliere, è un autore di romanzi, è un poeta, e con questo film si cimenta per la prima volta nella scrittura per il cinema. Quindi Lamb rappresenta un doppio esordio per questi due artisti. Tra l'altro, lo sceneggiatore Sean è anche il co-sceneggiatore dell'ultimo film di Robert Eggers, cioè The Northman, un film che spero di poter andare a vedere se passerà qui in zona, e questo fatto costituisce un ulteriore elemento di interesse per me, per andare a vedere i film di Eggers, perché penso che la sceneggiatura del film Lamb sia veramente solida, ben fatta, mi ha convinto, e penso che quindi, insomma, questo scrittore sia assolutamente valido. Quindi un doppio esordio che racconta la storia di questa coppia di allevatori e anche agricoltori, insomma, questi due personaggi, Maria e Ingvar, vivono in una fattoria veramente sperduta nella campagna bellissima islandese, vivono praticamente isolati con il bestiame che allevano, sono degli allevatori di ovini, e succede che la loro esistenza piuttosto tranquilla, se vogliamo anche monotona e grigia, ad un certo punto viene sconvolta da un fatto prodigioso. Un giorno, mentre stanno assistendo al parto di uno dei tanti vitelli del loro allevamento, ecco che viene alla luce questo vitello molto particolare. È un vitello femmina, quindi una vitella, che però è per metà essere umano, cioè è un ibrido animale-uomo. La testa è quella di un vitello, il braccio destro è la zampa del vitello stesso, e il resto del corpo invece è un essere umano. E di fronte a questa sorta di miracolo, questa cosa assurda che succede, le loro vite cambieranno radicalmente. In che senso? Nel senso che da quel momento quella che sembrava essere una famiglia piuttosto smorta, un nido familiare spento, ecco che improvvisamente viene attraversato da una nuova linfa vitale. Riprende vita appunto il loro rapporto, si riscoprono ad essere genitori, riscoprono non a caso, perché poi nel corso del film veniamo a sapere che questa coppia in passato aveva subito una gravissima perdita, la loro figlia di nome Ada, o meglio come dicono in lingua islandese, Atta, quindi c'è questa D bella dura, bella decisa nella loro pronuncia, era il nome appunto della figlia defunta, e questo nome viene trasferito a questo ibrido che loro decidono di adottare e di crescere come fosse effettivamente la loro figlia naturale. Quindi la storia è sostanzialmente questa qui. È chiaro, poi ci sono dei risvolti anche piuttosto drammatici, perché quella che ci viene raccontata è una favola abbastanza nera in realtà, perché il film inizia non mostrando subito il parto e la nascita di questo ibrido, ma comincia con il suo concepimento. Comincia con la notte di Natale, siamo tra il 24 e il 25, sentiamo questo suono inquietante, di questo respiro estremamente profondo, non vediamo di chi sia, chi lo stia emettendo, c'è una soggettiva, quindi il film parte con questo, di questa entità, di questo essere che si muove in mezzo alla campagna innevata e camminando ad un certo punto arriva presso questa fattoria. E lì questo essere che noi non vediamo fino alla fine del film, poi sul finale la macchina da presa svelerà il misterioso personaggio, questo essere si introduce all'interno dell'ovile, dove stanno appunto queste pecore, si accoppia con una di esse e da lì nascerà appunto l'ibrido Atta. Quindi il film parte con il concepimento dell'essere. Forse questo evento straordinario potrebbe essere ricollegabile in un certo senso a un fatto molto più famoso, molto più noto che ha a che fare con la religione cristiana. La notte di Natale c'è la nascita appunto di Gesù Cristo, il Messia, il Salvatore per i cristiani e qui abbiamo in un certo senso il concepimento e il punto di rinascita del rapporto che tra Ingvar e Maria era caduto in una sorta di depressione, una sorta di letargia. Con questo accoppiamento per questi due personaggi c'è di nuovo la possibilità per la loro famiglia di ricostruirsi. Il film riflette molto su questa tematica, cioè sul fatto che cose straordinarie possono contenere al loro interno elementi sia positivi come negativi. Il film riflette anche sul significato della famiglia stessa, cioè famiglia non necessariamente è quella cosa che è determinata dai legami di sangue, ma famiglia è il sentimento della stessa in realtà, a prescindere dai legami di sangue. Infatti Ada non è un essere che è stato concepito da uno dei due, cioè da Ingvar o da Maria, ma viene trattato esattamente come se fosse la loro figlia. Quindi la famiglia è un concetto più allargato. E se questo adottare Ada per i nostri Ingvar e Maria è un qualcosa di positivo, è un qualcosa che restituisce la vita a loro, al loro rapporto, dà a loro uno scopo per cui vivere, allo stesso tempo questa famiglia nasce diciamo da un qualcosa che può essere considerato come una sorta di peccato originale. Perché? Perché questo agnello, questo ibrido, viene sottratto ad un'altra madre. Cioè, questo film non possiamo considerarlo come antropocentrico, ma è un film che dà dignità anche al mondo animale. Trattandosi di una favola, troviamo che gli animali sono fortemente umanizzati, sia dal punto di vista fisico, come nel caso di Ada, ma anche nel caso della madre naturale dell'ibrido. Perché vediamo nel corso del film questa pecora che è marcata con il numero 31-15 che cerca insistentemente di ritornare ad avere un contatto, di riprendersi addirittura dell'agnella che le è stata sottratta. Quindi vediamo che questo animale possiede una intelligenza emotiva del tutto paragonabile a quello delle persone. Quindi il rapporto genitoriale non è un'esclusiva degli esseri umani. E la vicenda di questa pecora la 31-15 è una vicenda estremamente tragica con cui noi empatizziamo tantissimo almeno io mi sono sentito di empatizzare molto di più con lei piuttosto che con gli esseri umani. Anche con loro anche con la coppia alla fin fine si empatizza si capiscono le loro ragioni e la loro necessità anche di superare un trauma e di richiudere una ferita che non si è mai del tutto rimarginata però per come il regista riesce ad inquadrare questa pecora riesce a costruire le situazioni in cui la sua emotività il suo sentimento il suo istinto materno viene alla luce non c'è dubbio che la vicenda di questa pecora di questo vino è quella che riesce a riscuotere di più il consenso le simpatie dello spettatore e il primo peccato appunto quando vi ho parlato di famiglia che si basa su un agire peccaminoso è appunto questo cioè il ratto di un neonato la sottrazione di questo vitello alla sua madre naturale questo è il primo peccato poi cosa succede che questa pecora sempre più insistentemente cerca di riprendersi l'agnello e poi un giorno avviene questa fuga Adda viene condotta lontano dalla casa in aperta campagna dalla sua madre naturale i genitori adottivi però la cercano riescono a ritrovarla e la riportano a casa qui succede che una notte la nostra Maria nome secondo me anche questo non casuale se vogliamo continuare a fare riferimenti alla religione cristiana ha un incubo incubo tra l'altro girato secondo me perfettamente lì la fotografia di Ellie Arendson è perfetta perché abbiamo questa luce che viene sparata praticamente negli occhi delle pecore affinché questa venga riflessa dal cristallino degli occhi appunto degli ovini e con questa fotografia estremamente cupa che però riesce a giocare molto bene con la luce queste pecore queste bestie insomma assumono un'aria veramente sinistra inquietante e minacciosa e questo breve incubo ci dà perfettamente l'idea di quale sia la paura il timore di Maria cioè il fatto che questa pecora un giorno possa riuscire a toglierle di nuovo a portarla chissà dove quindi la madre naturale di Ada viene percepita come una minaccia e quindi Maria prende il fucile esce di casa e ammazza la pecora la quale poi viene seppellita nel campo non lontano da casa insomma e il tutto avviene sotto gli occhi di un altro personaggio Pietur che è il fratello del marito Ingvar ma lui torneremo dopo ecco questo è diciamo il fattaccio definitivo è proprio il peccato più grande il crimine massimo di cui si macchia questa coppia e in particolare la nostra Maria mi è piaciuto molto come è stato messo in scena il tutto perché l'uccisione della pecora sembra a tutti gli effetti un omicidio cioè il regista Johansson gira la scena esattamente come se si trattasse di un omicidio come se la pecora fosse effettivamente una persona e questo atto questo gesto ha tutta la brutalità di un matricidio e il personaggio di Maria dimostra in quel momento un lato oscuro che già precedentemente sembrava emergere però rimaneva entro certi confini qui invece la violenza diventa illimitata è qualcosa di tremendo e ci fa capire come l'istinto materno stesso sia un generatore di contraddizioni tutto il film gioca sulle contraddizioni in realtà perché come vi ho detto all'inizio dall'accoppiamento fra un essere mostruoso e un animale può nascere una creatura molto dolce una creatura con cui è molto facile empatizzare questa creatura può portare felicità in una famiglia ma questa felicità nasce sostanzialmente da un rapimento il personaggio di Maria si dimostra essere una madre estremamente affettuosa amorevolissima verso la piccola Adda ma allo stesso tempo Maria è pronta a trasformarsi in una persona estremamente aggressiva tira fuori letteralmente le unghie e le zanne ed è capace di trasformarsi in un assassina a sangue freddo perché l'inquadratura su Maria che è interpretata benissimo da un'attrice di grande talento come Naomi Rapace quell'inquadratura con lei con il fucile puntato verso la sua povera vittima lei ha un'espressione di una freddezza assoluta e tutto questo nasce dal suo desiderio di essere madre un qualcosa che noi tendiamo chiaramente ad idealizzare a considerare come un bene praticamente assoluto come un aspetto assolutamente positivo ma in realtà questo forte istinto materno può generare anche qualcosa di estremamente violento se non addirittura malvagio perché il gesto che lei compie è veramente qualcosa di empio il film ci dà molto questo senso la regia di Johansson riesce a trasmetterci questa oscurità questo senso del malefico che emerge da questo gesto e dopo questo fatto la famiglia sembra riacquistare un certo equilibrio sembra che il problema sia stato rimosso seppellito appunto però si inserisce un altro diciamo elemento di disturbo che è il personaggio di Pietur Pietur è un combina guai è diciamo il fratello problematico di Ingvar lui è un uomo di casa lui è dedito al lavoro è dedito chiaramente alla famiglia invece Pietur è diciamo un po' uno scavezzacollo ha un po' l'aria d'artista maledetto perché poi nel corso del film scopriamo che questo personaggio in realtà è un cantante è un musicista è anche un compositore e quindi diciamo che il suo personaggio anche qui risulta essere molto interessante è qualcosa di tanto di più rispetto al semplice elemento disturbo nel film ci sono sostanzialmente cinque o sei personaggi di esseri umani puri ce ne sono tre e l'ambientazione è la campagna e la casa dove vivono quindi è un film degli elementi abbastanza essenziali però è molto bello vedere che tutti i personaggi hanno il loro spazio e soprattutto hanno la loro caratterizzazione perché Pietur viene diciamo introdotto come un potenziale elemento di disturbo ma poi emerge come un personaggio veramente tridimensionale e un personaggio che anche dal punto di vista psicologico ed emotivo risulta essere molto complesso infatti Pietur è il portatore inizialmente per una parte del suo arco narrativo di quella diffidenza che possiamo considerare anche normale nei confronti dell'essere ibrido nei confronti di Adda lui infatti inizialmente non accetta la presenza di questo essere non comprende assolutamente come suo fratello e la cognata possano considerare normale il fatto di vivere con un ibrido come quello lui lo vede come semplicemente un animale la vede anzi come un abominio perché ad un certo punto il suo rifiuto sarà così forte che anche lui prenderà il fucile e tenterà di uccidere Adda il problema è che nel momento diciamo della verità nel momento in cui bisogna premere il grilletto Pietur non riesce si intenerisce vede l'innocenza negli occhi di Adda e da quel momento c'è la svolta del personaggio che accetta invece Adda l'accetta proprio come nipote da quel momento il rapporto fra i due sarà effettivamente quello di due familiari dello zio con la nipote e questo sorprende un po' lo spettatore e un po' anche la stessa Maria che di notte si era alzata e si era messa a cercare Adda perché non l'aveva trovata nel suo lettino e la ritrova addormentata tra le braccia dello zio Pietur e tra l'altro mi ero dimenticato a casa poi l'ultimo invece si concluderà sempre con Adda in compagnia di un altro personaggio sempre presa per mano oppure in una situazione di contatto stretto con un altro personaggio ma questa volta non si tratterà di un essere umano ma si tratterà del suo padre biologico poi tornando a parlare del personaggio di Pietur che è interpretato molto bene da Bjorn Aralson lui costituisce comunque un elemento di insidia non più per la nipote che ormai è accettato ma per la madre di famiglia perché scopriamo nel corso del dipanarsi della storia che in passato c'era stato un qualcosa fra i due c'erano stati degli incontri clandestini extraconiugali Maria però non vuole più riallacciare rapporti sentimentali con Pietur perché lei è completamente calata nel ruolo della madre di famiglia il rapporto come vi ho detto con Ingvar ha ripreso vita è tornato a fiorire Adda è una sorta di primavera per loro e lei non ha intenzione di rompere questo idillio che si è ricreato finalmente Adda è un dono come dice alla fine Maria a Pietro e quindi lei non è disposta più a commettere gli errori del passato quindi interessante vedere come anche il rapporto fra gli esseri umani abbia al suo interno degli elementi di forte problematicità di nuovo l'idea di famiglia viene fortemente messo in discussione perché comunque il fatto che questi due personaggi abbiano avuto in passato una storia ci fa capire che nei confronti di Ingvar quindi del fratello Pietro insomma non si è comportato in modo leale lì i legami di sangue evidentemente non sono contati quindi l'idea stessa di famiglia che dovrebbe essere anche sinonimo di realtà è venuta fortemente meno quindi di nuovo il film nega a mio avviso l'idea della cosiddetta famiglia tradizionale come dogma cioè che la famiglia tradizionale è l'unica forma di legame appunto familiare accettabile il film lo nega palesemente secondo me e fa emergere anche l'ipocrisia di questa pretesa a prioristica e il fatto che Pietro voglia comunque tornare a giacere con Maria non è un limite del personaggio della caratterizzazione del personaggio perché il suo personaggio non si ferma soltanto a quello dopo che Maria lo respinge e riesce a diciamo contenerlo lo confina in una stanza poi lo libera aspetta che la sbornia sia un pochino passata a Pietro perché dopo che loro avevano bevuto le sue avanze erano diventate particolarmente insistenti Maria libera Pietro e lo porta alla fermata del Pullman che appunto poi lo riporterà in città durante il tragitto i due si chiariscono lo fanno attraverso le parole ma lo fanno molto attraverso i gesti attraverso gli sguardi in questo film non si parla tantissimo anzi non è assolutamente un film verboso mi piace molto il fatto che le prime parole vengono pronunciate dopo tipo dieci minuti di girato i dialoghi sono molto essenziali arrivano al dunque e questo lavoro di sottrazione nei confronti della parola da un lato favorisce chiaramente le immagini quindi Johansson è perfettamente consapevole del fatto che il cinema è un'arte principalmente visiva e bisogna innanzitutto far parlare le immagini e su questo il film riesce perfettamente a mio avviso ma nel momento in cui tu scegli di inserire dei dialoghi piuttosto essenziali ecco che il peso delle parole pronunciate dai personaggi si fa sentire molto di più ci sono momenti in cui semplicemente chiamandosi pronunciando il nome per esempio quando Ingvar ha un momento di scontro con il fratello che prima di accettare Adda come sua nipote la stava trattando come un agnello qualsiasi le stava dando l'erba e la voleva costringere a brucare l'erba come un animale Ingvar arriva e rimprovera il fratello di questo Pietur gli dice guarda non è una persona è un animale la risposta di Ingvar è semplicemente uno sguardo di disapprovazione e pronuncia semplicemente il nome del fratello cioè Pietur con tutta la sua disapprovazione una disapprovazione che ha a che fare non solo nei confronti di quello che è appena avvenuto verso la sua figlia adottiva ma anche disapprovazione per quello che è il fratello cioè per tutta la sua storia personale per tutto il suo vissuto per il fatto che lui è sempre stato quello che combinava i guai probabilmente in famiglia quindi c'è tanto anche del background della loro storia personale del rapporto fra questi due familiari quindi la scelta fatta di ridurre la parola all'essenziale è una scelta assolutamente vincente e questa scelta appunto mostra la sua efficacia quando abbiamo il momento di confronto tra Pietur e Maria perché nel momento in cui si salutano Maria appunto dice che Abda è un dono e che loro quindi sono felici e che lui deve rispettare questa loro scelta e in quel momento Pietur capisce accetta di buon grado di andarsene ma nel momento in cui è arrivato l'autobus e lui sta per salire c'è un ultimo sguardo fra i personaggi c'è il momento del saluto prima di partire Maria dà dei soldi al cognato per dargli la possibilità comunque un attimino di rimettersi in piedi per aiutarlo in ogni caso per far capire che Maria è un personaggio che almeno nei confronti di Pietur non ha portato rancore per la pecora non c'è stata la stessa indulgenza ma nei confronti di Pietur sì Pietur non vuole accettare Maria insiste e poi c'è l'abbraccio finale fra i due prima del congedo ed è un abbraccio veramente sentito veramente dolce non c'è ripeto nessuna parola ci sono soltanto gesti c'è solo comunicazione non verbale e il tutto è stato reso in modo molto autentico è un long take che parte dalla macchina da quando i due personaggi scendono dal mezzo si spostano dove c'è la fermata e la macchina da presa li segue li inquadra sempre da una certa distanza se non ricordo male viene utilizzato un piano americano per inquadrare i personaggi e tutta questa parte come del resto tutto il film ma soprattutto questa parte qui veramente mi ha dato molto il senso dell'autenticità dell'affetto che comunque lega i due personaggi ci viene veramente restituito anche il senso della complessità dei rapporti umani sia nella descrizione dei singoli individui come anche nella rappresentazione dei loro rapporti dei loro legami appunto il personaggio di Pietro mi è piaciuto moltissimo perché lui è un personaggio fortemente contraddittorio tanto quanto lo è il personaggio di Maria infatti Pietro è uno che sa essere subdolo sa essere vigliacco sa essere ricattatore intollerante quasi un omicida o comunque se vogliamo assassino visto che Adda non è umana al 100% però allo stesso tempo è una persona che ha una sua sfera affettiva dimostra di essere un personaggio empatico ha una sensibilità artistica e questo lo vediamo non solo grazie al suo divertente video musicale ma anche per esempio nel momento in cui lui è a pesca con Adda e sulla barca recita dei versi recita una poesia e c'è una battuta che lui fa nei confronti di Adda la quale non risponde non dice nulla e lui dice sei esattamente come tuo padre le rime non sono mai state il suo forte mentre io invece riesco a fare poesia ecco insomma questo ci fa vedere come il personaggio di Pietur sia molto sfaccettato che tanti colori caratterizzano il suo animo la sua personalità forse forse dei tre personaggi umani Ingvar è quello che risulta essere il più semplice lui sicuramente non è un personaggio fino in fondo positivo perché è partecipe del rapimento di Adda cioè lui non è che ostacola la decisione presa di Maria Anzi lui è compartecipe e cerca di tenere a distanza la madre naturale di Adda però diciamo che è il personaggio il cui lato oscuro è più legato all'idea della paura di perdere la figlia adottiva infatti c'è questa scena onirica se vogliamo anche se in quel momento il personaggio non è che sta sognando sta magari immaginando qualcosa o semplicemente in quel momento il film è come se guardasse al suo interno e esplicitasse in forma d'immagine appunto quella che è la sua paura più nascosta perché lui in quel momento sta raccontando una storia una favola alla figlia Adda e poi nel momento in cui abbiamo questa ripresa di spalle ecco che improvvisamente vediamo Ingvar che corre in questa distesa acquitrinosa immersa proprio nel nulla con il cane correndo cadendo rialzandosi riprendendo a correre e poi si ferma al centro dell'inquadratura e con tutto il fiato che ha in corpo urla il nome della figlia chiaramente perché la sta cercando l'ha perduta e non sa se riuscirà a recuperarla chissà che magari ecco questa scena non sia anche il presagio di quello che poi succederà alla fine del film alla fine della storia quindi Ingvar è un personaggio diciamo un po' più semplice un po' più positivo meno problematico rispetto agli altri però comunque è un personaggio assolutamente credibile e penso che Himil Gulnason sia stato molto bravo nell'interpretare questa parte con tutte le sue sfaccettature tutte le sue sfumature il finale del film è veramente amarissimo desolante perché quella entità quell'essere che veniva annunciato semplicemente dal suono del suo respiro profondo gorgogliante questo essere ritorna e reclama Adda a sé infatti lui uccide Ingvar e porta via Adda è interessante vedere che questo personaggio viene sempre annunciato dal suono solo alla fine viene mostrato anche lui come un ibrido parte uomo e parte montone ariete insomma è quest'uomo alto villoso ben piazzato ma con la testa da montone il quale uccide con un fucile il povero Ingvar quindi in un certo senso c'è il rovescio della medaglia quella stessa arma che era stata usata da un uomo per uccidere un animale ora è l'animale o comunque l'ibrido che utilizza quella stessa arma per uccidere l'uomo e questo ci fa capire che il padre di Adda sia una figura mitologica se vogliamo accostabile alla figura mitica del minotauro però soprattutto noi capiamo che questo essere è già in passato entrato in contatto con la violenza degli esseri umani è indubbiamente un essere che vive secondo le leggi della natura leggi che possono essere anche spietate violente ma il fatto che lui sia in grado di imbracciare un fucile e di utilizzarlo significa che lui è entrato anche in contatto con altre forme di violenza cioè con quella degli uomini ed è il momento anche questo in cui l'elemento favolistico surreale irrompe in scena o meglio fa un ulteriore passo in avanti c'è molto l'idea di un film che rappresenta in modo realistico molto plausibile la quotidianità degli esseri umani però poi inserisce questi elementi propri del genere fantastico ed ecco che il film diventa un'opera che è del tutto accostabile al realismo magico realismo magico che in passato ha avuto degli esponenti importanti come Vittorio De Sica con il suo Miracolo a Milano per fare un esempio oppure Federico Fellini un altro esponente del cosiddetto realismo magico se uno guarda le notti di Cabiria si può fare un'idea di questo oppure in tempi più recenti il regista svedese a basi ha fatto il film Border Creature di Confine anche quello è un perfetto esempio secondo me di realismo magico rielaborato e calato nella nostra epoca ecco Johansson segue questa linea ci dà molto l'idea di queste creature che sono perfettamente inseribili in questo contesto dove la plausibilità e il realismo sembrano essere predominanti ma poi cedono il passo agli elementi fantastici e quindi questa creatura che abita le storie folcloristiche appunto degli islandesi probabilmente in passato è entrata in contatto con la violenza degli esseri umani oppure se vogliamo c'è qualcosa di ancora più profondo cioè siccome lui per parte è umano è in grado di utilizzare gli strumenti di violenza degli esseri umani quindi una violenza istintiva una violenza che è insita proprio nell'umanità quindi una critica abbastanza notevole emerge dal film nei confronti delle persone o comunque se vogliamo è il segno della contradditorietà dell'elemento umano che emerge anche attraverso la figura dell'ibrido e dicevo appunto il finale è amarissimo perché Ingvar muore Adda viene portata via dal suo padre biologico e ci sono dei primi piani delle inquadrature veramente struggenti molto drammatiche estremamente sentite su Ingvar ma soprattutto su Adda Johansson è stato molto bravo a dare espressività al volto di un animale e gli effetti visivi sono assolutamente convincenti non abbiamo l'idea di una CGI fallace che ci dà troppo il senso di finto ma finto proprio quello brutto che ti fa sentire il distacco con quello che stai vedendo che fa rompere il famoso patto tra l'opera e lo spettatore no l'effetto visivo è fatto veramente molto bene e il personaggio di Adda risulta essere molto molto credibile tenete conto del fatto che Adda non parla mai però emette dei suoni molto sottili molto dolci dimessi quasi che sono un po' animaleschi ma sono anche umani considerate che dal punto di vista del sonoro il film insomma è veramente notevole è stata fatta una ricerca straordinaria e l'utilizzo di questo elemento è veramente pazzesco quindi i suoni sono estremamente significativi in questo film ma dicevo per quanto riguarda il finale l'annuncio della morte della tragedia avviene ancora una volta attraverso non l'immagine ma il suono perché Maria quando torna non trova nessuno in casa e ad un certo punto sente lo sparo è diciamo un colpo di scena ben piazzato che non ti aspetti perché la creatura si sa che è nelle vicinanze perché il cane viene ucciso dal Minotauro io lo chiamo così però poi ad un certo punto sparisce tra l'altro quando Adda vede per la prima volta il suo vero padre quando corre lei si guarda allo specchio come nel volersi riconoscere ma soprattutto nel capire a chi assomiglia veramente e per capire anche chi lei sia quindi di nuovo non ci sono parole ma ci sono immagini ci sono gesti che sono estremamente significativi poi lei viene portata fuori da Ingvar e noi sappiamo che la creatura è lì nelle vicinanze ma non capiamo dove si possa trovare quindi c'è una sorta di costruzione iccocchiana della tensione perché tu sai che prima o poi si paleserà e sai che le sue intenzioni non sono amichevoli perché ha appena ammazzato il cane di Ingvar quando Maria arriva e non trova nessuno in casa sei lì che aspetti la rivelazione e questa arriva attraverso il suono dello sparo quando Maria arriva la tragedia si è compiuta Ingvar muore tra le sue braccia Adda è stata portata via dal padre e abbiamo quindi il film che si concentra definitivamente sul personaggio di Maria prima con un'inquadratura più larga poi si stringe di più sul volto di lei momento di grande intensità sentiamo proprio tutto il dolore della madre ma lì più che altro è della sposa che sta per diventare vedova quindi sta comunque per perdere quello che è l'amore della sua vita Ingvar ha comunque ricoperto questo ruolo nonostante ci sia stato il tradimento in passato con Pietur però nel momento in cui la famiglia si è ricostituita non c'è dubbio che il punto di riferimento sentimentale affettivo sessuale tutto quello che volete sia Ingvar poi il pensiero comincia a spostarsi su Adda su questa figlia che è stata nuovamente perduta abbiamo il primo piano di lei che si guarda intorno che guarda anche in macchina una prima volta poi abbiamo l'inquadratura conclusiva un'inquadratura più distanziata che ci fa percepire lo spazio che circonda il personaggio la sua solitudine lei che si piazza al centro dell'inquadratura prima il suo volto rivolto verso il basso poi gli occhi si alzano sguardo in macchina uno sguardo a mio avviso interrogativo su questa madre su tutto quello che ha fatto sulla sua vicenda e sulla sua definitiva miseria e poi Maria chiude gli occhi rivolge il volto verso l'alto verso il cielo e poi c'è un sospiro finale l'ultimo respiro di questo personaggio e del film stesso l'ultimo respiro di questo personaggio si può ricollegare al respiro della creatura che abbiamo sentito all'inizio del film abbiamo una sorta di chiusura del cerchio Maria che è completamente sola devastata e quell'ultimo suo respiro è quasi come se fosse la vita il soffio della vita che abbandona il suo corpo e noi comunque non possiamo rimanere indifferenti cioè la sua vicenda è costellata di momenti di luce e di ombre però è un personaggio la cui storia ci ha inevitabilmente catturati a mio avviso a me ha catturato a me ha preso mi sono sentito molto vicino a lei e veramente con un grande senso di vuoto e di desolazione con quel finale assolutamente pregnante e poi infine ci sono i titoli di coda sulle note famose della sarabanda della suite numero 4 in re minore di Handel la famosa canzone che possiamo sentire in Barry Lyndon e questo secondo me è una sorta di omaggio che il nostro Johansson ha voluto fare nei confronti del maestro Kubrick e quello che forse è il suo più grande capolavoro e il film quindi si conclude così con queste note che veramente danno il senso del dolore del personaggio di Maria che alla fine ha perso tutto e il senso anche di questo film che è una bella favola piuttosto nera però una favola che si conclude in modo triste e che però insomma ci ha raccontato una vicenda pregna di tanti significati c'è un appunto che voglio fare prima di concludere il video quando ho parlato del realismo diciamo della plausibilità della cura che è stata dedicata ai personaggi al tratteggiamento delle loro personalità delle loro reazioni c'è un momento in cui il film non riesce secondo me ad essere abbastanza credibile secondo me scivola un pochino è il momento in cui abbiamo la presentazione di Adda a Pietur Pietur viene a conto in casa c'è un momento in cui mangiano insieme si riuniscono al tavolo come una famiglia Pietur nota che c'è una sedia in più ed ecco che arriva appunto il personaggio di Adda la reazione di Pietur non mi ha convinto cioè lui sicuramente rimane perplesso nel momento in cui vede questa bambina con la testa Iagnello però ecco lui rimane taciturno cioè al di là del fatto che lui rimane sì visibilmente sorpreso dell'arrivo di questo essere qualcosa che lui assolutamente non avrebbe mai preventivato però la sua è una reazione diciamo sottotono mi piace il fatto che i due cioè Maria Ingvar presentino la figlia adottiva in un modo assolutamente naturale cioè come se Adda tranquillamente naturalmente facesse parte di quel nucleo familiare per loro è così la vedono così e la presentano così quindi da quel punto di vista è perfetto coerente con i personaggi ma la reazione di Pietro sinceramente mi ha un po' lasciato interdetto io penso che sarebbe stato più appropriato un altro tipo di reazione da parte del personaggio per esempio se noi facciamo riferimento alla metamorfosi di Franz Kafka ci ricordiamo che il personaggio di Gregor Samsa si risveglia trasformato in un enorme scarafaggio ecco quello è un racconto magico realistico ok cosa succede che nel momento in cui Gregor Samsa si manifesta alla vista degli altri dei familiari e del suo principale la reazione di questi personaggi è esplosiva cioè si scatena un putiferio pazzesco il padre di Samsa addirittura è fortemente ostile nei suoi confronti lo attacca gli lancia degli oggetti e Samsa viene costretto a restare confinato nella sua stanza ecco quella è una reazione umana realistica nei confronti di un fatto straordinario e soprattutto nel momento in cui tu hai davanti agli occhi un essere che tu percepisci come mostruoso e Pietur percepisce Adda come una sorta di abominio almeno in un primo momento poi le cose cambiano però la reazione di Pietur secondo me avrebbe dovuto essere più forte è chiaro non è che volevo che il personaggio facesse volare i piatti le sedie il tavolo però ritengo che sarebbe stato più coerente più credibile una reazione decisamente più forte di quella che invece vediamo da parte di Pietur in questa scena comunque io penso che questo film sia veramente notevole è un bel esordio da parte di Johansson un film che ha un montaggio veramente ben fatto una fotografia splendida a mio avviso inquadrature fantastiche ci sono gli esterni che sono veramente mozzafiato bravissimi gli attori regia perfettamente consapevole Johansson sa sempre come dove mettere la macchina da presa sa utilizzare ottimamente il mezzo è un film che vi consiglio tantissimo penso che sia uno degli esordi più convincenti che ho visto negli ultimi anni quindi guardatelo sostenete il film fatemi sapere che cosa ne pensate iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto commentate condividete il video e ci rivediamo alla prossima occasione ciao a tutti